Giulio, sai chi ha inventato l'elettrocardiogramma? Ma non saprai chi. Fu uno scienziato olandese, Willen Eintofen, il quale sviluppò il primo metodo per la registrazione dell'attività elettrica totale del nostro cuore. Questa scoperta gli valse il premio Nobel nel 1924. Sicuramente avrai visto mille volte il tracciato dell'elettrocardiogramma, o ECG, di un cuore in stato normale. Intendi questo? Esatto! La potenza di questa tecnica era quella di poter riconoscere varie patologie cardiovascolari semplicemente osservando la traccia che la macchina lasciava sulla carta millimetrata. Ma come si interpreta un ECG? Ok, forse è meglio che ti spieghi qualche concetto generale delle attività del cuore. Già ai tempi di Eintofen era ben noto che ogni contrazione del cuore era causata da attività elettrica. Come avviene in neuroni e muscoli via la formazione di un impulso elettrico dovuto alla depolarizzazione di membrana delle cellule che lo compongono. Questo fenomeno è dovuto al passaggio di Na+, all'interno della cellula e K+, all'esterno. L'impulso è originato dalle cellule autoritmiche del nodo seno-atriale, un pacemaker naturale. Esso poi si propaga verso il nodo atroventricolare, depolarizzando gli atri, i quali si contraggono pompando il sangue nei ventricoli. La propagazione nei ventricoli poi permette l'espulsione del sangue fuori dal cuore. In pratica il potenziale investe tutte le cellule del cuore variando il suo profilo. L'ECG mostra la somma di potenziali generati in tutte queste cellule, perciò può essere usato come rappresentazione inconfondibile dello stato del cuore e dare informazioni sul ciclo cardiaco. Mi pare di aver capito, però come si fa a registrare il segnale del nostro battito? Immagino che servono degli elettrodi per captare la differenza di potenziale. Esatto! Eintofen sviluppò un galvanometro che prevedeva l'applicazione di elettrodi su punti strategici della superficie del corpo. Infatti l'onda di depolarizzazione generata viene percepita anche in superficie. Con queste derivazioni esploriamo in maniera definita l'attività del cuore, formando il famoso tracciato. La prima onda è detta P e corrisponde alla depolarizzazione degli atri, legata alla loro contrazione, mi raccomando. Poi vi è il complesso delle onde QRS, che corrisponde alla depolarizzazione dei ventricoli. Questa onda molto grande nasconde il segnale della ripolarizzazione degli atri. E infine vi è l'ultima onda, la T, il segnale della ripolarizzazione dei ventricoli. Questa è la forma standard, giusto? Esatto! Quindi da cosa si deduce un'anomalia cardiaca? Beh, prendiamo ad esempio una tachicardia. La forma del tracciato sarà uguale, ma la distanza, picco picco, notevolmente inferiore. Appunto, c'è una frequenza cardiaca anormale. Invece per un'aritmia avrò una frequenza di segnali che non è costante. E un infarto? L'ischemia può portare alla morte del tessuto, impedendo così la ripolarizzazione di parte del cuore. Il tracciato ECG presenta pertanto allargamento dell'onda Q, sovraslittamento del tratto ST e inversione dell'onda T. Questa è la fototessera di un cuore infartato. Beh, è davvero una tecnica potente, estremamente utile. Sì, e che tutti i giorni permette di monitorare la salute di tantissima gente. Beh, che dire, da Nobel. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace ed iscriviti al nostro canale. E guarda anche tutti i nostri altri video.